Il concetto fondamentale che va chiarito è la differenza fra un digiuno e una dieta. Qual è sostanzialmente? Un digiuno io praticamente non apporto fonti energetiche, cioè io non assumo macronutrienti a scopo esclusivamente energetico. Punto. La dieta invece io apporto anche nutrienti a scopo energetico, ma non è detto che in quella dieta sia tanto intelligente il nutrizionista, talvolto il biologo nutrizionista che si arroga al medico e non garantisce gli alimenti essenziali, quali le vitamine essenziali, tra l'idrosolubile e la vitamina C, la liposolubile, la A, la E, la D, se uno non si espone ai raggi solari, la F che sarebbero gli omega 3, e poi praticamente l'apporto degli amminoacidi essenziali. Isoleucina, leucina. Sì, gli otto amminoacidi essenziali, i due aromatici, il tofano, il fenilalina, la melionina, la trionina, poi abbiamo praticamente i tre ramificati che sono quelli che danno il valore biologico della proteina. Quindi il concetto fondamentale tra il digiuno e dieta è che il digiuno tu non fai apporto energetico. Nella dieta tu fai un apporto anche energetico, che può essere restrizione calorica più o meno ampia. Questa è la differenza sostanziale che esiste fra digiuno e dieta. Cosa facciamo noi? Noi facciamo un digiuno proteico, che non lo chiamiamo digiuno proteico, perché la parola digiuno la gente già gli suona male, perché il digiuno lo vede come un fatto religioso, come una cosa da pazzi fuori da testa. In realtà il digiuno, qual è lo scopo di digiuno proteico? Di garantire tutti gli alimenti essenziali, in particolar modo gli amminoacidi, che devono essere garantiti 24 ore al giorno, perché noi non abbiamo scopo di riserva. Noi faremo una vitamina C, proprio perché la vitamina C neanche la possiamo conservare, come le vitamine liposolubili. Mentre le vitamine liposolubili noi ne prendiamo quella quota che ci serve, ed è utile cedere, perché l'organismo la parte in eccesso, la cula, come fa con gli ormoni steroidei che fanno i culturisti e rischiano l'intossicazione del fegato. Perché se io bevo troppo alcoli, ci si intossica il fegato, se me prendo gli ormoni steroidei, la pillola anticoncezionale o me prendo, come si chiama quell'altro, gli anabolizzanti, il testosterone, quindi purtroppo gli steroidei si vanno ad annucchiare dentro il fegato, oltre che nel grasso, e formano il fegato grasso e possono dare tante problematiche. Quindi concettualmente quello che noi facciamo è, non siamo la parola digiuno, ma noi facciamo un digiuno che si traduce in un'alimentazione essenziale. La differenza del nostro protocollo rispetto a tantissimi altri protocolli, il tipo di proteina, che è l'unica proteina di riserva presente in natura, e garantisce un apporto continuo di amminoacidi semplici oligopeptidi. Non so, fa una domanda. Non so, fa una domanda.